Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura, il vescica biliare 32, Zongdu in lingua cinese. Prima di iniziare vi ricordo però di iscrivervi al canale tramite l'icona in basso a destra. Zongdu, tradotto in italiano, significa il fosso per il deflusso. I nomi originali dei punti di agopuntura sono pieni di significati utili, a comprendere ovviamente sia il senso biologico della loro azione che l'utilizzo in terapia. Il primo riferimento al termine fosso per il deflusso è di tipo anatomico, infatti il sito del punto assomiglia a un affossamento. Tuttavia fossa per il deflusso è un'immagine metaforica che indica come un canale di scolo una struttura costruita e adattata a drenare un eccesso. Fossa per il deflusso ci indica pertanto una funzione di questo agopunto, ovvero la capacità di ripristinare la corretta circolazione nei meridiani quando ci sono eteropatie da eccesso. Fossa per il deflusso canale di scolo indica altrettanto come la vita non è lasciata certamente al caso, ma è protetta da strategie di riequilibrio e compensazioni complesse, tra questo i servomeccanismi. Canale di scolo o fossa per il deflusso ci indica dunque strategie adatte a salvaguardare la vita biologica tramite servoregolazioni e compensazioni. Il punto vescica biliare 32 si occupa in questo aspetto particolarmente di ciò che riguarda la muscolatura. VB32 si localizza 5 sun sopra la piega del ginocchio, sul bordo posteriore del femore 2 sun sotto il VB31. Vediamo le indicazioni cliniche per VB32 almeno per come risultano dei testi antichi. Questo agopunto attiva la circolazione nei meridiani e disperde ventus e algor venti. VB32 si utilizza dunque per l'eteropatia algor venti caratterizzate da dolore muscolare all'arto inferiore in senso generale. Tuttavia il 32 è particolarmente indicato quando l'eteropatia algor venti implicano in modo particolare il piede. Il 32 si utilizza anche in caso dei paresi della gamba, ovviamente durante la riabilitazione e insieme alla stessa. VB32 come indicato dalla sintomatologia vento a livello muscolare si occupa primariamente dell'arto inferiore. Si chiamano malattie vento non quelle da riferire esclusivamente a eventi climatici. La malattia vento nella tradizione cinese è un termine tecnico che deve descrivere quelle sofferenze caratterizzate da una qualità specifica nella sintomatologia. Sono malattie vento quelle che hanno un esordio improvviso e veloce. La sintomatologia è erratica e cangiante, il paziente è dinamizzato, lamenta contratture, spasmi, si osserva un netto organotropismo verso muscoli e articolazioni. La caratteristica però più peculiare delle malattie vento è una stringente correlazione con la collera, soprattutto quando questa non viene sufficientemente estrinsecata. L'agopuntura considera in ogni malattia gli aspetti fisici accanto a quelli emotivi e mentali. Inoltre studia la relazione tra malattie diverse distinte solo dalle diverse aree di interesse specialistico. Si tratta di aspetti estremamente interessanti nel metodo che consentono bei vantaggi in terapia, oltre la semplice stimolazione dei punti. Bene, siamo alla fine del video di oggi. Lasciate un commento o una domanda, sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!